Perfetto, e se l'Umbria non era un test di grazia, perché tutto il governo si è presentato l'ultimo giorno di campagna elettorale? Quella benedetta Foso di Narni? Perché voglio dire, anche quello, non è che la gente si può prendere in giro, se tu ti presenti l'ultimo giorno di campagna elettorale col presidente del Consiglio, i ministri, i capi di tutti i partiti della coalizione, per dire che vuoi presentare la mano tu stai andando lì a mettere la fiducia sul risultato in Umbria, stai venendo a dire votate per me se perdi col 60% in una regione storicamente tua, forse un po' Quindi Conte dovrebbe dire, basta così Conte dovrebbe dimettersi assolutamente, non ho dubbio